Eccoci qua, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 21 maggio, e vi devo dire la verità che sono sconfortato, sono sconfortatissimo. So che sono una minoranza, ma so che ci sono tantissime persone che mi seguono e quindi io mi rivolgo soltanto poi a voi, perché siamo in un mondo in cui il titolo oggi del Corriere della Sera è il seguente, Contagi al Tolà alla Movida. Allora io a questo punto mi rivolgo non ai genitori, non ai nonni, non a voi che molti di voi condividono quello che dico, io mi rivolgo ai ragazzi, a quelli che hanno tra i 16 e i 25 anni, non vi fate prendere per il culo, non vi fate prendere da questa paura irrazionale, irrazionale, avete sentito voi, per cui oggi per colpa dei contagi voi non potete fare la Movida come se fosse un crimine la Movida. La Movida non è altro che dei ragazzi che escono la sera e vanno a prendersi un aperitivo, se non è vietato prendersi uno spritz è inutile che mi state a rompere i coglioni su questi ragazzi che vanno a prendersi uno spritz, non è vietato, non è vietato venderlo, non è vietato berlo, non è vietato stare all'aperto, è vietato avere una paura di andare a prendere uno spritz, oggi il pezzo migliore lo fa Alessandro Sallusti, ma lo prende da un punto di vista diverso rispetto dal mio, ma altrettanto intelligente secondo me, perché dice Sallusti la questione non è se è giusto o sbagliato, è semplicemente impossibile, perché in realtà quelli che vanno a prendere lo spritz possono farlo, o anche la birretta possono farlo, o anche il Negroni possono farlo, non c'è una legge che lo vieta, chiaro? Viviamo in un paese peraltro che già vieta di poter stare a una distanza inferiore di un metro e quindi io esco di casa se non sto a una distanza inferiore di un metro posso uscire, esiste una legge per cui è vietato uscire senza mascherina? No! Loro possono stare sul naviglio senza mascherina, senza che nessuno gli faccia una multa, è uno stato fascista, comunista, statalista, da Germania dell'Est che si metta a dire, ti faccio la multa? Le multe si fanno in base a delle leggi, cari sindaci sceriffi, cari presidenti sceriffi, cari presidenti di consigli sceriffi, cari opinionisti sceriffi, la multa da 3.000 euro per uno che esce e va a prendersi lo spritz che non è una cosa vietata, non è una cosa che mi fa orrore, va bene? Stiamo diventando dei pazzi! Un tempo ce l'avevamo con i ragazzi che andavano a prendere lo spritz e diventavano ubriachi e poi prendevano la macchina, poi ce la siamo presa addirittura con i ragazzi che vanno a piedi o in bicicletta sovvenzionata a prendersi lo spritz. Siamo in un paese drogato, drogato da questa illiberalità. Poi ci avrò tutti quelli che dicono porro è un pazzo ma come ti permetti c'è il virus e oggi ho letto anche P.G. Battista che io condivido moltissimo su Quelle della Sera che dice il rispettoso nei confronti delle morti. Cosa facciamo? Cosa facciamo nei confronti delle morti? Stiamo tutti quanti a casa dopo le epidemie. Chiudiamo il paese? Certo che è il rispettoso nei confronti delle morti ma forse è stato più irrispettoso un governo che ha messo il limite di 15 persone a un funerale all'aperto invece che dei ragazzi che dopo tre mesi vanno a prendere legalmente, ripeto legalmente, vanno a prendersi un aperitivo fino a prova contraria a prendersi un aperitivo in un paese normale, non nella DDR, non è vietato. Tra l'altro pagina 6 del Corriere della Sera, lo stesso che dice contagi al Tola, alla Movida, cosa c'è scritto? C'è scritto che i contagi sono il minimo storico in Lombardia, 8, e mi obietterete, eh allora vedi, aumenteranno i contagi. Ragazzi, i contagi non vogliono dire nulla, quello che vuol dire è la malattia, la sappiamo curare meglio, ma non voglio entrare adesso nella polemica tra De Donno e Burioni che oggi va a finire in tribunale, ce lo ricorda anche un articolo del Corriere della Sera perché De Donno è il sierologico che viene considerato un tema sicuro, anzi De Donno, come si chiama Tarro, che viene insolentito da tutti i maestri e i grandi della scienza, quando probabilmente loro che lavorano agli ospedali, intendono De Donno, vengono trattati come se fossero dei cialtroni, in realtà salvano le vite. Io quello che dico ragazzi, stiamo impazzendo, oggi vi faccio leggere, vorrei che voi leggeste il pezzo di Luca Roic sulla Nuova Sardegna. La Sardegna è un posto in cui, a parte i pochi sardi che ci vivono e che invidio per la bellezza dell'isola in cui si trovano, vive pochi mesi all'anno. È una specie di grande, come possiamo dire, stupendo paradiso che si apre, si schiude per 3-4 mesi d'anno. Ogni giorno in più in cui è chiuso vuol dire la morte di un'impresa, la cassa integrazione che non riceve di un dipendente, un barista che non lavora, un bambino che non va a scuola, un euro che non arriva, l'impossibilità di avere una prospettiva. E noi abbiamo il sindaco, toc toc, Solinas, amico, voglio dire, eletto dalla destra, non come quello forte dei marmi che si è nominato il capo di gabinetto suo cugino e sta in un paesino e ha preso 1600 voti. Solinas ha avuto un grande successo, fa parte del grande partito di Salvini. Parlatevi, perché caro Salvini, tu non puoi dire una cosa a livello nazionale, puoi avere il tuo rappresentante locale che ne fa una completamente diversa. Non è il Veneto di Zaia che ha avuto, come possiamo dire, l'epidemia più forte insieme alla Lombardia e l'ha gestita anche molto bene. La Sardegna non ha contagi, ne ha di altre cose, di contagi, ma non di questo e non si riesce a capire nulla. Se ha un albergo non gli spieghi quando potranno atterrare gli aerei a Olbia, sì te l'ha detto, però ogni giorno sembra diverso. Se ha gli alberghi come scrive oggi Luca Roic, spieghi che la Sardegna è la covid free, in realtà è una patacca, come dice questo signore qua, è una patacca. Non sappiamo, ci sono dei sindici che hanno detto potete andare sulla spiaggia ma non potete fare il bagno, potete fare il bagno ma dovete essere distanziati nel fare il bagno. Mi viene il sangue al cervello, la Sardegna la stiamo buttando nel cesso, il posto più bello del mondo. Va bene per i sardi che se lo godranno, ma basta per loro godersi questa isola, possiamo pensare, ragazzi voglio dire, noi decidiamo anche di andare in un altro posto, qualcuno potrà andare in Puglia, io sono pugliese, sono ben contento che ci può essere, gli italiani potranno scegliere, ma è questo l'atteggiamento, ma io ve lo chiedo veramente, caro presidente Solinas, ci ripensi, ci ripensi, parli un pochino con gli albergatori, parli, non è possibile, non è possibile avere questa idea, questa paura del virus per cui ci rende tutti paralizzati, se io fossi un albergatore sardo, come cavolo il diavolo potrei aprire o pensare di avere una prenotazione? Che faccio quando mi spiegate che le prenotazioni del covid free partono il 15 di giugno, cioè quando apre l'aeroporto, boom, secondo voi mi si apre, zaccete, come se fosse un fenomeno tutto quanto il mio carnet di prenotazioni? Ma che gliene frega, evidentemente ai nostri politici, tanto per loro basta fare gli sceriffi, anche perché la maggior parte degli italiani apprezza Conte, io sono una minoranza estrema, sono stato una minoranza al giornale, continua ad essere una minoranza sulla rete, io continuo a pensare che sia una grande bolla di follia, quando scoppierà questa bolla, però purtroppo non è che staremo tutti lì a prendere gli spritz, avremo bar che non hanno aperto, ristoranti che non hanno aperto, casse integrati che non avranno più i soldi, avremo turismo che non funziona, avremo compagnieri che dovremo pagare noi con i nostri soldi perché con questi distanziamenti folli non potranno reggere, ma va bene così, continuiamo a andare. Vi vorrei segnalare che riguardo i contagi al Tolà alla Moida non è obbligatoria la mascherina all'aperto, la mascherina è obbaricatoria in Lombardia se si è in luoghi in distanze inferiori di un metro, punto, o in luoghi chiusi. Bene, andiamo avanti, pattugliamenti fino a tardanotte, fino a paldanotte, non state più vicini, cioè ci sono i pattugliamenti che dovranno andare nelle strade, direi voi siete troppo vicini e con il metro dovranno vedere se siamo a meno di un metro e se siamo a meno di un metro, ma abbiamo la mascherina, possiamo starci, invece ragazzi, ma noi vi rendete conto? Poi certo ci sono i miei critici che dicono, Nicola, questo salverà le vite, perfetto, chiuso là. Nel frattempo vorrei segnalare l'articolo di Repubblica, pagina 1 di Repubblica, che è diventato un giornale che leggo con maggiore attenzione oggi per il livello e soprattutto è più vicino a me ormai, Repubblica che al Corriere della Sera mi viene da piangere, dice fase 2, 8 milioni di bambini dimenticati. Nel frattempo, mentre facciamo i fenomeni, gli aeri, gli aeri, la malattia, la mascherina, un metro, abbiamo bambini che stanno a casa, bambini che non vanno a scuola e quindi disuguaglianze che aumentano soprattutto per quelli che hanno Digital Divide, abbiamo asili chiusi, abbiamo i parchi spesso chiusi, abbiamo i campi estivi chiusi, nel frattempo questi qua, dei genitori dovrebbero lavorare, è chiaro che se hai le mie possibilità puoi lavorare con agilità, facilità, anche avendo i figli, vale per tutti questo? Abbiamo distrutto le paritari, abbiamo distrutto i ragazzini che stanno a scuola, abbiamo distrutto le famiglie che devono tenere i bambini a scuola con questa minchiata del bonus babysitter che non serve neanche a pagare un mese, neanche a pagare un mese di quello che vuol dire il sacrificio soprattutto alle famiglie più deboli, ma chi se ne frega, nel frattempo Salvini fa la sua intervista, io la condivido, però oltre a fare l'intervista parlasse con Solinas, glielo consiglio vivamente, in questo paese comanda la CGL e Solinas in Sardegna, comanda la CGL perché dice non vuole toccare i codici degli abbatti, Salvini ha perfettamente ragione, la CGL ha comandato in questo paese tutte le riaperture, tutti i protocolli delle aziende, si è inventato un nuovo ruolo, pensate un po' che per avere i prestiti devi fare prima l'accordo con la CGL e poi ce l'hai, se non puoi licenziare i propri prossimi 5 mesi, un'altra regola assurda di questo governo, per cui le aziende non possono fare fatturato, devono avere i distanziamenti, devono avere i protocolli, non riescono a avere un euro e non possono licenziare, e datevi anche un calcio sulle palle e fate prima le aziende italiane, anzi quelle che possono se ne vanno via, ha ragione Salvini, comanda la CGL, nel conto questo Di Maio, il suo ex alleato di partito è diverso rispetto al partito che lo rappresenta e lo vedi dalla stampa di oggi perché Di Maio anche lui vorrebbe cambiare questo codice degli appalti, poi bisogna vedere come si cambiano le cose perché si possono sempre peggiorare, anche perché questo codice degli appalti non ve lo dimenticate, figlio della riforma di Renzi che dovrebbe essere il grande innovatore ed ha paralizzato il mondo, cioè era figlio della riforma di Renzi, speriamo che il prossimo sia meglio di questo. Di Maio lo vuole cambiare ma lì dice la stampa e il problema ce l'ha anche all'interno del partito perché c'è l'anima, diciamo grillina verde che non gli vuole far cambiare nulla. Perché la CGL oggi ha un peso superiore a quello degli altri e in questo ha perfettamente ragione? Ce lo spiega oggi il ministro Catalfo, lo trovo oggi sul Sole 24 Ore, è un boxino a pagina 3 del Sole 24 Ore, vi ricordate la responsabilità che hanno le imprese se si ammalano addirittura nel percorso quelli che vengono a lavorare a casa loro di questo virus? Ve lo ricordate quella responsabilità? Ebbene la Catalfo dice beh ma non c'è bisogno di fare una norma per cambiare questa cosa, basta la circolare dell'INAIL. Una cazzata! Perché la circolare dell'INAIL di fronte a un magistrato ha un valore non di norma primaria, è interpretazione di una norma e quindi quello che voglio semplicemente dirvi, quello che voglio semplicemente dirvi che un'impresa se si dovesse trovare oggi di fronte a un caso di Covid, oltre a dover chiudere e quindi non ha nessun interesse ovviamente a che si diffonda, l'altro problema potrebbe averlo davanti a un magistrato e un processo è già l'inizio di una pena, come tutti quelli che sono stati sottoposti a un processo ben conoscono. Nel frattempo ieri c'è stata, scusatemi, sul decreto la pagina migliore su tutte le manovre del decreto è stata fatta dal Corriere della Sera che tutto blocchi questi 55 miliardi, poi vedete si tratta di mancette che serviranno davvero a poco. Pensate che nel bonus da 110 non valgono neanche, ve lo dico c'è scritto sul Corriere della Sera, intanto vale solo per i condomini ma anche per le persone fisiche, se sono proprietari di un condominio ma hanno nel condominio un ufficio, beh quello non vale più se è il loro proprietario dell'ufficio, inoltre non vale per le case unifamiliari se non sono case principali, quindi se è la casetta al mare non vale anche se è unifamiliare, in più alcune cose come gli infissi non sono incentivate, insomma questo non ha nulla a che vedere con i vecchi e sacrosanti e grandissimi aiuti che sono stati dati alle ristrutturazioni edilizie. Nel frattempo nota bene Zanetti e non solo Zanetti oggi in un'intervista al giornale che i professionisti, 2,4 milioni di professionisti, nonostante sia per loro ridotto il reddito ad aprile, non avranno il fondo perduto e questo è l'atteggiamento cigelle, l'atteggiamento comunista perché i professionisti sono ricchi, perché i professionisti sono ladri, perché architetti, avvocati, giornalisti, medici, infermieri, tutti quelli che si sono dotati di un salvo sono non des parvenus e quindi loro in questo momento non devono avere il fondo perduto. Complimenti, grandissima idea da parte di questo governo che ha tolto 2,4 milioni di persone. La verità nota sul decreto, una cosa che c'è scritta chiaramente nella relazione tecnica e ve la dico subito, sapete dovevano aiutare il turismo con quell'inutile bonus 500 euro, immaginate voi cosa vuol dire un bonus 500 euro, zero per la filiera del turismo, beh insomma non è neanche da 4 miliardi l'aiuto, è da 1 miliardo. Ultima cosa sulla Fiat, vi ricordate tutta la polemica, vi diamo il prestito, non vi diamo il prestito, eccetera, Elkan ha fatto subito sapere, ragazzi guardate che il dividendo da 5,3 miliardi che nasce dalla fusione con PSA di cui 1,6 miliardi prenderà la famiglia Agnelli, cioè gli Elkan col cavolo che non lo prendiamo il miliardo e 6 per prenderci 6,5 miliardi di prestito, quindi col cavolo quel, dice il canso tutti i giornali, quel prestito è impresso nella pietra. L'ultima questione riguarda la sfiducia a Buonafede, qui il pezzo migliore di Cappellini perché tutti noi sapevamo che sia la mozione della Bonino sia la mozione del centrodestra non sarebbe passata perché non c'erano voti sufficienti alla Camera e al Senato, insomma non passa, la maggioranza è dall'altra parte e soprattutto Renzi non avrebbe tagliato il ramo sul quale siede. Però oggi Cappellini dice una cosa giustissima, è stato salvato Buonafede e però è importante che la sinistra non salvi le sue idee, pezzo di Cappellini oggi su Repubblica da ritagliare. Tra l'altro dice non voglio neanche fare il guascone ricordando quando in un'intervista a Repubblica, in un'intervista a Repubblica, Buonafede diceva che anche uno pulito deve dimettersi se è sospettato e quindi il pulito che sarebbe Buonafede dice lui oggi, anzi non lo dice Cappellini perché è troppo signore, lo dico io, uno che potrebbe essere definito pulito come Buonafede e viene sputtanato da Di Mattia un grandissimo magistrato e anche uno pulito come lui non si dimette, bene che non si dimetta però non è possibile sempre io so io e voi non siete nessuno, capito? Cioè la logica del Marchese del Grillo anche per lui la logica del Marchese del Grillo, complimenti al Buonafede e alla sua dura drittura morale perché quello che vale per gli altri non vale male per loro è la questione solita dei moralisti e dei puri e lui ne è il caso più tipico, direi che per oggi è tutto, noi ci si vediamo sempre sul sito nicolaporro.it e mi raccomando se andate a prendere uno spritz non siete dei terroristi, mantenete le distanze, non mi fate fare la multa dai vigili che staranno lì col metro per vedere se siete a un metro avete il diritto sacrosanto costituzionale liberale di uscire di casa se nessuno ve lo impedisce e non fatevi ragazzi prendere per i fondelli il rischio zero non ci sia, è più grave andare in macchina dopo essersi presi tre spritz e guidare che andare su una viglia a prendere lo spritz, questo è il messaggio di un paese normale, non il contagio e quindi non devi prendere lo spritz, avete preso lo spritz non guidate, andate a piedi a prendere lo spritz fatelo liberamente la parte è è è